La 69 edizione rappresenta la 24esima consecutiva fatta a Terni per quanto riguarda i campionati italiani giovanili perché dall'inaugurazione del palladennistavolo Aldo De Santis del 92-93, quindi dalla primavera del 93, i campionati italiani giovanili si svolgono ininterrottamente, si sono svolti ininterrottamente qui a Terni. Quindi è un motivo di soddisfazione per noi perché è un evento di primaria importanza in quanto per me i campionati italiani giovanili rappresentano la manifestazione più importante per qualsiasi disciplina sportiva, non soltanto per il tennis tavolo, in quanto i giovani rappresentano il futuro, rappresentano il domani e quindi è chiaro che dalle gare che vedremo dal 23 al 28 usciranno i campioni del domani. Per quanto riguarda l'organizzazione è chiaro che chi è che è responsabile dell'organizzazione della federazione Terni Stavolo noi siamo cosiddetti affidatari nell'organizzazione della manifestazione stessa. La federazione in questi anni non ha portato a Terni soltanto i campionati italiani giovanili, ha portato manifestazioni di più alto livello internazionale come per ben due volte i campionati europei giovanili che hanno dato lustro e nome alla città di Terni in tutta Europa, ha portato due campionati italiani assoluti dove per circa 20 giorni ci sono state migliaia e migliaia di giornate presenza negli alberghi, nel territorio e queste sono state le manifestazioni più importanti.